Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia B2 maschile, a seguire il match valido per la seconda giornata di campionato Girone C fra la Trentino Volley BTB in maglia nera alla sinistra dello schermo del vostro PC e il Bibione Sandona di Chiave, squadra della provincia di Venezia Siamo tornati in campo adesso da pochissimi istanti dopo il secondo timeout tecnico di questo primo set sul punteggio di Itas di Trentino Volley 17, 9 invece per Bibione Siamo andati al timeout tecnico sul punteggio di 16-8 a favore della squadra di Andrea Buratini Vantaggio maturato soprattutto grazie a un ottimo filotto di battute messe a segno da Gabriele Anelli con due ace diretti e soprattutto tante battute che hanno messo in serie difficoltà la recezione veneziana 17-10, adesso il punteggio tocca a De Santis, attacco da posto 1 Su attacco viene però difeso facilmente da Bibione che può contraattaccare lo fa con lo proprio opposto ma arriva il muro di Bertotti quarto punto per lo schiacciatore Trentino, il secondo con il fondamentale del muro 18-10 il punteggio adesso a favore della squadra Trentina che può mandare lo stesso Bertotti al servizio Scuola Trentina che opta oggi in campo per un sessetto con una novità rispetto al derby che abbiamo potuto vedere sul nostro portale della settimana scorsa ovvero sia in campo c'è Filippo Lanza schiacciatore che quest'anno fa parte del gruppo della Serie 1 in diagonale con Bertotti, Lanza che ha già messo in segno 5 punti personali errore intanto che arriva dallo schiacciatore Veneziano Zaccariotto 19-10 quindi il punteggio a favore della Trentino il primo set tutto di marca Trentino ottima difesa adesso di Nelli, la palla però torna nel campo del Bibione l'attacco a tutto braccio dell'opposto della squadra veneta Bettina 19-11 terzo punto per Bettina arriva intanto un cambio chiamato da Andrea Burattini fuori proprio Bertotti per il giro dietro entra Chiappa mentre dall'altra parte della rete a servizio può andare il numero 15 Anastasio buona la decenzione della Trentino Volley palla in posto 4 per Lanza che tira una discreta sassata in diagonale 6 su 7 in attacco per Lanza in questa partita e due errori in battuta 20-11 comunque il punteggio a favore della Trentino Volley BTB a servizio adesso può andare il centrale Trentino Coali copta per una battuta jump flop in attacco della squadra veneziana arriva il tocco in seconda intenzione da parte del regista Dall'Ator primo punto per l'ex palleggiatore di Sarmeola 20-12 adesso il punteggio più 8 a favore della squadra di Andrea Burattini proprio lo stesso Dall'Ator che adesso può andare il servizio Gianflotto e Griso qualche problema per la ricezione arrivano evidente falla di doppia in palleggio fischiato da Gabriele Nelli molto difficile tenere alta questa ricezione per il palleggiatore toscano della Trentino Volley 13-11 quindi per la squadra veneziana ancora il palleggiatore della Torre al servizio riceve molto meglio questa volta Griso palla in posto 4 per Lanza ancora un attacco a tutto braccio in diagonale 21-13 il punteggio e per Lanza adesso sono 7 i punti personali in questo match vi ricordiamo per la seconda giornata del campionato di serie B2 maschile Girona C a servizio adesso Gabriele Nelli palleggiatore della squadra Trentina soprattutto una volta troppo profonda quarto errore in battuta di questo set per la Trentino Volley punto numero 14 ma restano comunque ben 7 i punti di margine a favore della compagine di Andrea Burattini abbattuto adesso che il Bibione a tutto braccio tiene molto bene Chiappa in ricezione palla in posto 4 per De Santis e qui toccò proprio dietro le spalle del muro finisce terra 3 su 6 in attacco per De Santis in questo set 3 punti per l'opposto del braccio molto interessante delle giovani di Trentino Volley e adesso va un altro giovane quanto interessante come Pippo Lanza a servizio ancora una volta una battuta di alta quasi a tutto braccio buona questa volta l'eccezione della squadra veneziana che poi si realizza una cambiopalla grazie a Bettina su palla alta praticamente a parte l'opposto ha fatto grande fatica a passare quest'oggi la squadra veneziana almeno ovviamente fino a questo 22 a 15 nel primo set Griso riceve in palleggio molto bene palla alta in 2 per De Santis il suo attacco viene però contenuto dal muro veneziano ma c'è un'altra occasione ancora per De Santis difende ancora una volta il Bibione l'attacco in pipe c'è l'invasione fischiata nel muro di Blegginelli invasione a rete per quanto riguarda il muro bianconero della squadra trentina sedicesimo punto quindi per il Bibione 22 a 16 punteggio e dall'altra l'altra rete va in servizio lo schiacciatore Manzano infezione quindi qualche problema per la Trentino Volli arriva però la botta di Chiappa e la posto 4 uno su uno per Chiappa in attacco in questo set punto numero 23 per quanto riguarda la Trentino Volli in meno 2 alla vittoria di questo primo parziale a sedito può andare il centrale Bleggi su a Gianflotta che in posto 6 ce l'è molto bene comunque il Bibione con contattacca in posto 4 muro out da parte di Coali palla che vola 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 piano 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 verso la linea dei 9 metri ma arriva a toccare terra poco dopo la linea gialla arriva adesso un cambio per quanto riguarda il Bibione fuori con il numero 14 l'opposto Bettina in palleggio in battuta perdono può andare Berlandis maglia numero 8 per lui 22 a 17 il punteggio per la Trentino Volli Btb Berlandis opta con la battuta viene molto bene comunque Lanza in posto 6 primo tempo ma è il primo tempo della Trentino Volli palla che sembrava fida sulla linea invece battezza out l'attacco di Coali la copia arbitrale allora 23 a 18 per fermare un po' il ritmo che sta prendendo il Bibione in questa parte di match Andrea Burattini chiama il suo primo time out dell'incontro è finito il time out discrezionale richiesto da Andrea Burattini i due stessetti tornano in campo sul punteggio di Trentino Volli Btb 23 Bibione Sandona 18 Berlandis ancora a servizio a tutto braccio la palla tocca il nastro qualche problema per chi ha eccezione del paleggiare Lanza lo fa molto bene dietro per De Santis che però non chiude l'occasione allora per il Bibione che tira a tutto braccio con questo Berlandis palla che finisce però troppo lunga 24esimo punto quindi per la Trentino Volli Btb che si ingrazia sentitamente questo errore appena il secondo errore diretto di tutto il match zero errori da tutta finora per quanto riguarda la squadra veneziana che sbaglia pochissimo ma è anche poco concreta con il strato di mettere palla a terra la battuta adesso da parte di De Santis pala il finish out di poco De Santis chiede che la palla a lui almeno dalla sua prospettiva sembra finita dentro il proprio arbitrale comunque conferma fall out sono allora 5 gli errori al servizio messi a segno da Trentino Volli in questo primo set tocca adesso il Bibione adizione Bianza sui 2 metri e mezzo palla per il posto 1 per De Santis se ne fende comunque molto bene il Bibione non può però potrò attaccare in modo efficace allora palla per Chiapa in posto 4 sul diagonale è tenuto molto bene però in difesa dalla squadra veneziana che poi sbaglia tutto con questa pipe finisce direttamente sul nastro 25 a 19 si chiude così il primo set Trentino Volli 1 Bibione 0 ben trovati allora con il secondo set di questa partita tra l'Itas Diet e il Trentino Trentino Volli Btb in serie B2 e il Bibione Sandonà Mare Volli l'attacco adesso da parte di Bertotti finisce out è il 14esimo punto a favore del Bibione in questo secondo set da Trentino Volli in A16 in saccoccia 16-14 siamo appena tornati in campo dal secondo time out tecnico di questo secondo parziale presezione adesso della Trentino Volli attacco ancora affidato a Bertotti palla che si infila fra muro e rete 17esimo punto per la squadra della Trentina per Bertotti sono 7 i punti personali con 2 muri e un 5 su 11 in attacco lo stesso e non è Bertotti che adesso può prendere palla in mano e andare a servire dalla linea dei 9 metri la sua battuta il racconto braccio ma finisce direttamente in rete errore al servizio numero 8 adesso per la squadra Trentina allora arriva immediatamente un cambio chiesto sia da Burattini sia dal suo collega Ezio De Pin tecnico del Bibione fuori proprio Bertotti per il giro dietro entra al suo posto Stovo 17-15 il ponteggio dall'altra parte a rete invece esce il palleggiatore dalla torre entra al suo posto con la maglia numero 18 Boraso è lo stesso Boraso che prende la palla gialla e blu va dalla linea dei 9 metri che si sta prestando a servire soprattutto tirata a tutto braccio il posto 6 splendida recezione però di Machiaviso palla in posto 2 per Bertotti arriva la palla out ma arriva l'invasione fischiata al muro di Bibione è già la terza invasione a rete fischiata in questo match alla squadra Veneta 18-15 il punteggio qualche protesta da parte della formazione bianca-azzurra-blu tant'è che la coppia arbitrale resta comunque sicura di ciò che fa e allora 18-15 il punteggio a servizio adesso può andare Quali il centrale Trentino opta per una jump a flotte molto profonda in posto 5 quanto per Mino riceziona in palleggio per il Bibione cresce comunque a contraattaccare difende proprio Quali occasione adesso per Lanza a posto 4 si becca però il netto muro di Zaccariotto 18-16 il punteggio Lanza ha avuto la palla del più 4 è arrivato invece il muro del meno 3 meno 2 e adesso è proprio già creato che può andare a servizio in sezione di Lanza palla sui 2 metri e mezzo palla per De Santisi cui tocco alle spalle del muro arriva però molto bene il libro della squadra veneziana che poi riesce in qualche modo a ributtare la palla dall'altra parte della rete allora free ball per quanto riguarda la squadra Trentina Lanza che tira una sassata in diagonale 19-16 il punteggio per una squadra giovanissima come questa avere in squadra uno schiacciatore che ha già un'esperienza di Biennale in Serie A2 che da agosto lavora con il gruppo della Serie A1 che ha già vinto l'Under 20 l'anno scorso e di sicuro un importante punto di sostegno in più 19-16 il punteggio adesso può andare a servizio Gabriele Menelli che soprattutto tocca il nastro palla che si impegna torna verso Campo Trentino non la chiude però obleggia allora un'occasione importante per il Vivione ma fischiato un fallo in ricostruzione portata in palleggio a Zaccariotto allora 20-16 adesso a favore della squadra Trentina U4 importante ancora Gabriele Menelli che può andare a servizio ancora una volta una battuta al salto ancora una volta la palla tocca il nastro buona recezione della squadra ospita però non riesce a chiudere allora Griso in appoggia per lo Sessionelli che chiama in caso in posto 4 Lanza sassata sulle mani alte del muro 21-16 e anzi è così il primo giocatore di questo match ad arrivare in doppia cifra da 10 punti per lui e sul punteggio di 21-16 tocca a Depin chiedere il suo time out discrezionale è terminato allora il time out discrezionale chiesto da Ezio Depin tecnico della squadra veneziana negli ucciditi che tornano in campo al servizio può andare ancora a Gabriele Menelli spegne davvero la sua prova imbattuta quest'oggi già nel primo set ha fatto il break importante adesso due punti sono arrivati con il suo turno al servizio ancora grossi problemi in ricezione la palla che torna nell'altra parte De Capo allora Nelli serve direttamente De Santis settimo punto per l'opposto della Trentino Volley 20-b e 22-16 il punteggio quando riesce a forzare la battuta la squadra trentina riesce poi a difendere e a contrattaccare molto bene anche perché con ricezione staccata fa davvero grossa fatica il Viglione intanto arriva l'errore Nelli al servizio non errore in battuta per la squadra trentina dall'altra parte della retta quindi tocca al centrale Manzano andare al servizio sul punteggio di 22-39 Viglione 17-b non rischia batte direttamente pieghi a terra qualche problemino adesso per Nelli decide a ricevere questa palla molto alta Ponci ha ricevuto troppo alta questa palla allora Nelli non c'è arrivato errore che regala il diciottesimo punto alla squadra veneziana che va ancora al servizio riceve molto meglio questa volta Ponci primo tempo chiamato da Nelli per Bleggi che mette palla a terra 3 su 3 per il centrale trentino in attacco in questo match 23-18 e l'imbattuta può andare Filippo Lanza giocatore che Rado Stolce fa voluto con lui in Serie 1 in questa stagione sua sassata a tutto braccio dai animometri finisce però sul nastro e allora sono 10 gli errori a servizio per quanto riguarda la squadra trentina arriva intanto un cambio esce l'opposto della squadra veneziana Tonon al suo posto in campo Berlandis ancora per la battuta proprio lo stesso cambio che ha fatto anche nel set precedente il stesso Berlandis che può andare verso servizio sul 23-19 la sua battuta non tira ricerde comunque molto bene la trentino brutta palla di Nelli per De Santis cresce comunque a tenerla viva palla cresce nel campo trentino allora attacco da parte di Conci finisce fuori si tratta dell'ottavo errore di gioco tra del trentino volley e allora Andrea Brottini per non correre rischi sul 23-20 chiama il suo timeout iscrizionale 23-30 volley BTB 20 Bibione Marevoli arriva intanto un cambio ancora per la squadra veneziana esce Borraso torna in campo il primo palleggiatore dalla torre a servizio c'è ancora Berlandis entrato pochi istanti fa proprio per la battuta e premete il giro dietro attacco la battuta a tutto braccio Griso tiene però la palla splendidamente proprio sulla testa di Nelli l'attacco in lungo linea di Conci finisce fuori secondo errore consecutivo per la squadra trentina allora Burattini richiama in pelchina Conci reinserisce di nuovo Bertotti si torna quindi al sestetto iniziale per quanto riguarda la Trentino volley BTB sul punteggio di 23-21 ancora Berlandis a servizio partita che procede molto astratto tra alti e bassi per entrambi i sestetti la battuta di Berlandis finisce fuori mezza spanna non di più però è finita fuori 24-21 ringrazia sentitamente a Trentino volley quello che è appena il quarto errore in battuta di tutto il match per quanto riguarda il Bibione a servizio adesso secondare la centrale Blechi a sua Gianflotto qualche problema in ricezione palla su quattro metri di palleggiare in bagher dalla torre arriva su palla scontati in posto 4 il muro di De Santis che chiude sul 25-21 questo match 2-0 per la Trentino volley e noi ci rivediamo nel terzo parziale terzo parziale di questa sfida B2 maschile girone tra la Trentino volley e il Bibione siamo al ritorno in campo del terzo set dopo il secondo time out tecnico che questa volta è Bibione avanti di una lunghezza 15-16 per la squadra Lagunare che adesso attacca con Berlandis difende comunque la Trentino volley poi contraattacca con Lanza da posto 4 si muove la rete ma è la proprietaria non fischia ottima difesa ancora della Trentino volley che ha un'altra occasione ancora con Lanza che mette palla a terra 16 pari per Lanza è il punto numero 11 in questo set parziale nel quale la Trentino volley era partita davvero molto molto bene subito un 6-2 un 8-3 grazie al turno al servizio di Danilo De Santis poi però pian piano passo dopo passo Bibione è riuscito a recuperare fino alla 15 pari arrivare appunto 15-16 avanti di una lunghezza al time out tecnico al servizio adesso jump a flotte di Koali attacca da posto 4 che è in difesa lo stesso Koali poi De Santis palla che resta viva può soltanto però riappoggiarla di là in palleggiolanza un'occasione ancora per Berlandis arriva l'attacco dallo stesso Berlandis la rete si muove in modo vistoso non viene comunque fischiata l'invasione punto comunque per la squadra veneta che così torna atti di lunghezza 16-17 e adesso al servizio può andare il suo schiacciatore Tononi soprattutto che appareceve molto bene palla in mano per Bertotti poi arriva il diagonale di Lanza punto numero 12-17 a 17 in questo match dodicesimo punto personale per quanto riguarda i Polanza e al servizio adesso può andare Gabriele Melli il palleggiatore toscano della squadra trentina solo tutta finisce però direttamente sul nastro e questo è ben il quattordicesimo errore al servizio della squadra trentina un po' troppi probabilmente gli errori di battuta spesso alcuni dei quali anche senza forzare troppo Chiappa adesso riceve fuori dal campo deve correre Melli palla per De Santi segno più diagonale finisce però molto bene lungo in posto 5 18-18 ed è 11 punti personali anche per l'opposto del trentino volley Btb al servizio adesso può andare Filippo Lanza Lanza spicciatore Beronesco per una battuta al salto ma senza forzare troppo gli utenti in posto 5 Berlandis attacco dal posto 1 arriva il cambio palla sulle mani alte del muro trentino a servizio adesso può andare il secondo palleggettore della squadra veneta Boraso ha cambiato tutta la diagonale principale in questo setto della squadra veneziana sta anche provando a tirare sempre comunque a tutto braccio a servizio a servizio a volte però capitano degli errori come questo sono così hot toll le battute sbagliate da parte del Bibione il servizio adesso di Bleggi la sua jump di tento in posto 6 palla che si impenna sui due metri e mezzo tira a tutto braccio molto bene però lo spiacciatore veneziano di Zaccagiotto ed è il primo giocatore dei suoi ad arrivare in doppia cifra 10 punti per lui 19 a 20 si prosegue a braccetto in questo parziale è lo stesso Zaccagiotto che può andare verso a servizio soprattutto a tirata a tutto braccio chiappa tiene la palla a filo rete deve saltare Nelli attacca a quali e palla che cade buon primo tempo giocato dalla coppia Nelli Coale 20 a 20 il punteggio rush finale quindi verso il successo di questo parziale con i due stessetti che stanno procedendo verso il pari passo imbattuta per la squadra di Andrea Burattini adesso una volta terminate le operazioni di asciugatura del campo ci sarà il proprio opposto Danilo De Sanchez il gioco viene ancora interrotto per la richiesta della formazione da parte della squadra lagunare De Sanchez che imbattuta stavamo raccontando pochi istanti fa aveva già fatto ottime cose in avvio di match suo infatti il break che ha permesso alla Trentino volley di andare avanti prima 6 a 2 quindi 8 a 3 al primo time out tecnico poi però pian pianino la squadra veneta è riuscita prima a portarsi in scia sul 13 a 12 poi a completare l'opera della gancia sul 15 a 15 il flottentone adesso De Sanchez ancora però grossi problemi in ricezione per la squadra veneziana è usato appoggiare la palla di là frivola allora per la Trentino volley con il primo tempo di quali che non chiude un'altra occasione ancora questa volta per Berlandis e qui attacco però finisce direttamente in rete colpisce arriva un cambio adesso chiesto da Ezio De Pini il tecnico del Bibione fuori Zaccariotto in questo posto con la maglia numero 12 Gasparini schiacciatore inserito probabilmente per il giro dietro per rinforzare la ricezione in questo momento 21 a 20 per la Trentino volley di Tudin in questo terzo parzale 2 a 0 il contro set a favore della squadra di Buratini e ancora Danilo De Santis a servizio del suo flottante salto di tagliare in posto una rivale Ace Ace flottante per De Santis 22 a 20 dodicesimo punto personale per De Santis ma soprattutto brecchio di vantaggio a favore della Trentino volley allora De Pini non ci passa solo un attimo e chiama il suo time out dispezionale li ecco in campo i due stressetti Trentino volley di Btb Bibione Sandonà 22 a 20 in questo terzo set un altro flottante di De Santis palla che finisce a cavallo della riga dei 9 metri coppia arbitraria la battezza out e così sono 15 gli errori al servizio per quanto riguarda la squadra Trentino in questo match e dall'altra parte può andare dal suo servizio l'opposto Berlandis il centrale della squadra veneziana attacco resto di Chiappa che può tanto appoggiare dal posto 4 risolve tutto però smanacciando questa palla il centrale Anastasio 22 a pari 22 a 22 allora sostituzione per quanto riguarda la Trentino Voli esce Chiappa torna in campo Emanuele Bertotti che aveva iniziato anche questo terzo parziale però poi appunto lasciare il posto a Chiappa soprattutto per il giro dietro in recessione 22 a 22 a servizio la squadra del Bibione buona recessione della Trentino Voli che controattacca con Lanza in pipe non chiude allora un'occasione di free ball per la squadra del Veneta ma arriva doppia in palleggio fischiata a Boraso che protesta facendo il calcolo di tutti gli errori diretti in attacco oppure doppie invasioni che hanno regalato punti che hanno regalato attenzione perché arriva adesso anche un cartellino giallo c'è stata evidentemente qualche parola di troppo e allora il numero 18 Boraso arriva sventolato il cartellino giallo che sul 23 a 22 vuol dire 24 a 22 per la Trentino Voli di TV proteste per Boraso che si becca questo cartellino giallo 24 a 22 a 30 stiamo dicendo che complessivamente calcolando tutti gli errori di gioco della squadra che hanno dato punti alla Trentino Voli si arriva a 16 16 errori che hanno consegnato altrettanti punti alla Trentino Voli di TV 14 invece sono i palloni o gli errori o le invasioni le doppie insomma tutto quello che ha consegnato punti alla squadra veneziana ma il vero punteggio che conta in questo momento è quello che dice il tabellone giallo e rosso del Palabocchi 24 a 22 per la Trentino Volley Btb e a servizio può andare Emanuele Bertotti schiacciatore Trentino non forza paraplazzata in posto 6 buona recezione della squadra veneta ma arriva un attacco bruttissimo da posto 4 da parte di Tonon che spara out e allora 25-22 la Trentino Volley può festeggiare la sua prima vittoria in questo campionato di serie B2 2011-2012 3-0 al Bibione Mare grazie ancora a tutti quanti voi per essere rimasti con noi nella nostra videosintesi ci riveliamo alla prossima partita sempre su sportartino.it